La BCE, Banca Centrale Europea, è in difficoltà. Non sa come gestire l'attuale contesto economico-finanziario. Infatti risulta essere indecisa sui tassi, non sa bene cosa fare. Un po' incendiaria, un po' pompiere, Christine Lagarde è così. Dopo aver dato la scorsa settimana una fiammata agli spread, lasciando presagire una stretta ai tassi in anticipo sul previsto, ieri la presidente della BCE ha gettato acqua sul fuoco. L'aumento dei tassi di interesse non risolverebbe nessuno dei problemi attuali. Quali sono i problemi attuali? Il primo di tutti è il maxi rincario energetico, un fenomeno esogeno non governabile dalle banche centrali che rischia di impattare sulla crescita. Tra gli altri problemi chiaramente c'è il tema dell'inflazione, ok? E i problemi ai colli di bottiglia della catena di approvvigionamenti. Ne abbiamo parlato in vari video su questo canale, non si trovano i chip per le automobili e per certi veicoli l'usato costa di più del nuovo. Secondo Lagarde questi problemi si risolveranno, le pressioni sui prezzi dovrebbero diminuire e l'inflazione dovrebbe tornare al suo andamento, senza bisogno di un significativo aggiustamento della politica monetaria. Bene, c'è tanta carne al fuoco? In questo video facciamo il punto della situazione su inflazione, tasse di interesse e prospettive economiche. Iniziamo. I migliori contenuti per prendere le migliori decisioni finanziarie al costo di un caffè al giorno. Scriviti ora su pianofinanziarioplus.it Partiamo dagli Stati Uniti. Aggiornamento inflazione. Questo è lo stato dell'inflazione negli Stati Uniti. Abbiamo toccato a dicembre il 7% di inflazione anno su anno, numeri che non hanno precedenti negli ultimi 20 anni. Bisogna andare indietro agli anni 90, 80, non lo so esattamente. E vediamo come comunque sia un'inflazione che non ha precedenti. Anche impostando 25 anni di orizzonte temporale non c'è un picco puntuale di questa entità, cioè superiore al 6%. In Europa la situazione è leggermente meglio perché siamo al 5 e qualcosa di inflazione, un po' più indietro rispetto agli Stati Uniti, sempre allungando l'orizzonte temporale vediamo che è un massimo di sempre questo picco di inflazione. Negli Stati Uniti però la Fed si è già mossa a dicembre, ha dichiarato la fine degli acquisti di titoli sul mercato, quindi la fine di quello che è chiamato quantitative easing, verso marzo e poi 3 aumenti di tassi di interesse nel 2022. Ma molti analisti fanno previsioni fino a 7 aumenti dei tassi di interesse per quest'anno. In questa tabella Bank of America stima 7 aumenti di tassi di interesse nel 2022, BNP Paribas 6, Deutsche Bank 5, TD Securities 4 aumenti di tassi di interesse. Insomma negli Stati Uniti il percorso di normalizzazione della politica monetaria è già in atto, è già stato dichiarato e in fase di avvio. Quello che non è chiaro sarà l'entità. La Fed ha dichiarato 3 aumenti dei tassi, altri analisti stimano che l'inflazione continuerà ad essere molto elevate, porterà la Fed a dover fare più aumenti di tassi di interesse. Comunque parliamo di per dicembre 2022 di arrivare a un tasso di circa l'1,5%, queste sono le stime. Se fosse anche l'1,75% non sarebbe un cambiamento drammatico. Il problema è che la Banca Centrale Europea è più indietro, in altre parole il ciclo economico in Europa è più indietro rispetto a quello americano. Cosa si intende per ciclo economico? Si intende la ripresa di consumi dopo la fase recessiva che abbiamo visto per diversi trimestri nel 2020. Quindi un ciclo economico è fatto di una fase in cui c'è una contrazione dell'economia perché c'è un periodo di recessione e c'è una fase di recupero a livello occupazionale, a livello di consumi, a livello di prodotti interno lordo, nei mesi successivi. Quindi negli Stati Uniti, grazie a stimoli incredibili, ti spedivano i soldi a casa con un assegno affinché tu li potessi spendere, hanno recuperato molto velocemente i tassi di consumo, le vendite pre-pandemia, hanno recuperato i livelli occupazionali pre-pandemia e quindi sono già in una fase in cui possono permettersi di raffreddare un po' l'economia, aumentando i tassi di interesse e con l'obiettivo anche di contenere l'inflazione. In Europa la situazione è differente, perché? Perché siamo appunto più indietro a livello di ciclo economico, non abbiamo ancora recuperato il prodotto interno lordo pre-pandemia, la crescita c'è, però in questo momento si vedono già dei segnali di rallentamento, di crescita. Non significa che ci sia una recessione imminente, ma la spinta, o in altre parole, la velocità di recupero dell'economia si è leggermente ridotta. Ce ne accorgiamo da vari indicatori, uno di questi è il PMI, Purchasing Manager Index, lo approfondiamo all'interno dell'Osservatorio Economico Finanziario, quando riaprirai scriviti a PLUS così puoi accedere a questi dati che commentiamo mensilmente. Bene, in due parole, quando il PMI è sopra 50 siamo in una fase di espansione dell'economia, quando si è sotto a 50 è una fase di contrazione dell'economia. Per maggiori informazioni c'è PLUS e i contenuti più avanzati. Bene, in Europa abbiamo visto picchi fino a 63 di PMI, che era un valore elevatissimo, forte espansione, da qui poi un'inflazione, comunque un'effervescenza dell'economia per tutta la seconda metà del 2021 e poi un rallentamento, come vediamo qui, fino a un valore medio di circa il 58. Ok, aspetta a digitare perché lo so quale commento stai per scrivere. Ma dov'è la ripresa economica? Perché qua nel mio paesello non si vede. Ok, lo so, questi sono dati medi europei, poi uno potrebbe approfondire i dati italiani. In ogni caso, i dati parlano di crescita economica. Poi ci sono contesti in cui non la vedi, la crescita economica, in altri contesti in cui la vedi. Non dare per scontato che se non la vedi non ci sia. Ok, questo è giusto per precisare perché li vediamo i commenti e quando ci parla di crescita economica la gente mette sempre in discussione i dati. Allora, questi sono dati che possono avere più fonti. C'è l'Ocse, c'è il Fondo Monetario Internazionale, c'è la Banca Centrale Europea, ci sono i dati della Banca d'Italia, del Ministero dell'Economia. Ci possono essere differenze tra una stima o l'altra, ma la crescita c'è stata nel 2021. Non abbiamo ancora recuperato i livelli prepandemici perché nel 2020 abbiamo perso circa 8 punti e mezzo di prodotti in tano lordo, ma tra 2021 e metà del 2022 in Italia dovremo più o meno ritornare ai livelli prepandemia. Quindi la crescita c'è, ok, non è una crescita rispetto ai valori prepandemici, è ancora un rimbalzo, ma siamo sulla strada giusta. Tra l'altro, tra l'altro, potremmo anche celebrare che per la prima volta da sempre i tassi di crescita dell'Italia del 2021 e del 2022 sono superiori a quelli della media dell'area euro. Quindi per una volta, lo so, troviamo il lato positivo delle cose, ma qualche notizia positiva c'è. Ok, quindi chiuso questa parentesi, se non vedi la crescita probabilmente guarda meglio perché c'è a livello medio, magari non c'è nella tua zona, nel tuo quartiere, nella tua città, ma a livello medio italiano o a livello medio europeo c'è. Questo rallentamento del PMI lo si vede in modo ancora più marcato negli Stati Uniti perché loro hanno toccato un picco di 64 sempre circa giugno-luglio dell'anno scorso e adesso sono in una fase ribassista. Quindi in altre parole c'è già un rappreddamento dell'economia. Quindi qual è la difficoltà che hanno i banchieri centrali in questo momento? In questo momento hanno promesso aumenti di tassi di interesse per contenere l'inflazione e dopo mesi, quasi anni, che dicevano che l'inflazione sarebbe stato un fenomeno temporaneo, adesso hanno dovuto cedere alle pressioni dell'opinione pubblica e dichiarare aumenti dei tassi di interesse, ma potenzialmente lo vanno a fare in un momento in cui i dati economici potrebbero essere meno ottimali rispetto a quanto non fossero sei mesi fa. Quindi in altre parole si stanno muovendo in ritardo, ma così in ritardo che potenzialmente potrebbero anche smentirsi, perché se questo trend di rallentamento della crescita continuasse, magari tra 3-6 mesi non ci sarebbero più le condizioni per poter fare tre aumenti di tassi di interesse per la Fed, magari solo uno o due. Se ti ricordi, su questo canale ho dichiarato più volte, citando anche Ray Dalio, che le banche centrali si sarebbero sempre mosse in ritardo, perché l'obiettivo è che ci sia inflazione. Cioè è ovvio che una banca centrale ha l'obiettivo di avere il 2% di inflazione, la stabilità dei prezzi, eccetera. Questo è il mandato. Dall'altra parte devono farla un po' correre, perché, ripeto, ne va della solidità degli stati, della capacità degli stati di poter ripagare tutto questo debito pubblico che è stato creato. Quindi ci troviamo in una fase in cui, parlando solo di economia, e poi vedremo quali sono le minacce che ci sono adesso, fanno fatica a poter valutare un aumento dei tassi di interesse. Infatti da questo post di CNBC in cui c'è un video di Christine Lagarde che dice che se alzassimo i tassi in 6-9 mesi vedremo una frenata dell'economia e continuerebbe a dire che l'inflazione è transitoria. Quali sono gli altri aspetti che non dobbiamo dimenticarci in questo contesto di investimento? Bene, innanzitutto il fatto che le materie prime sono già a prezzi molto elevati. Questo sta mettendo in crisi interi settori, interi comparti. Io abito a Modena, qui vicino c'è Sassuolo, comparto leader per la ceramica a livello mondiale. Bene, ho molti amici che lavorano nel settore ceramico e in vari mi hanno detto che con questo aumento del prezzo del gas, perché la ceramica è un'azienda energivola, consuma tantissimo gas, bene, con questi prezzi molte ceramiche hanno chiuso i forni. Cioè hanno gli ordini ma produrrebbero in perdita. Quindi hanno deciso di chiudere i forni e aspettare che ci sia un adeguamento o magari un futuro ribasso dei prezzi del gas. Questo è un problema per l'economia ed è un'anomalia nel senso che gli ordini ci sono. Quindi dal punto di vista della domanda, la domanda di beni e servizi c'è, è forte. Ma su certi settori l'aumento delle materie prime porta ad una forte limitazione nell'offerta che si somma a quella limitazione nell'offerta di cui abbiamo già parlato in altri video, il caso dei chip per il settore automotive è sotto gli occhi di tutti. Oggi se ordini un'auto nuova te la consegnano tra 9-12 mesi. Questo ha fatto sì che il prezzo dell'usato si è salito molto perché magari preferisci comprarti un'auto di un anno invece che dover aspettare un anno per l'auto nuova. A questo si aggiungono i rischi geopolitici. In questo momento sto registrando il 14 di febbraio si parla di invasione russa in Ucraina. Quindi tensione sui mercati finanziari, sto registrando il lunedì mattina e questi sono i valori che vediamo meno 3-4% su vari mercati e chiaramente un problema di questo tipo oltre alle ovvie implicazioni sociali per la popolazione dell'Ucraina che devono essere devastanti ha delle ripercussioni anche a livello economico. Quindi ecco perché la BCE non sa cosa fare ed è indecisa ed è comprensibile. L'inflazione c'è ma la crescita sta leggermente rallentando ci sono minacce di natura geopolitica all'orizzonte ci sono evidenti difficoltà limitazioni nella catena di fornitura che potrebbero ulteriormente impattare negativamente l'economia che cosa si può fare in questo momento? Beh qui entriamo nel mondo delle previsioni e mi trasformo in veggente potrebbero poter posticipare questa decisione ad una data futura come già in parte preannunciato da Christine Lagarde. La Fed ha già dichiarato questi aumenti dei tassi vedremo potrebbe rimangiarsi la parola nell'arco di tre settimane la cosa non sarebbe un grosso problema infatti come è passato dal dichiarare l'inflazione transitoria a fenomeno da combattere nell'arco di un mesetto e mezzo potrebbe benissimo correggere il tiro sul tema dell'aumento dei tassi di interesse questo ha due implicazioni primo le aspettative sui tassi di interesse chiaramente si ripercuotano sull'andamento del comparto obbligazionario che dall'inizio dell'anno ha già visto un repricing un riprezzamento molto importante il Bund è tornato in territorio positivo dopo anni in cui il decennale si muoveva su un rendimento lordo di circa meno 0,4% adesso è tornato in territorio positivo perché i prezzi sono scesi uguale il BTP a 10 anni siamo quasi all'1,9 2% di rendimento quindi l'obbligazionario sta già scontando un possibile aumento di tassi di interesse che non è detto che ci sarà in un contesto di inflazione che non è detto che verrà combattuta nel breve periodo quindi ecco perché in questo momento un investitore deve essere piuttosto diversificato perché viviamo in un contesto di profonda incertezza perché stiamo uscendo da questa emergenza sanitaria con evidenti problemi di riavvio dell'economia e con dei rischi geopolitici che fino a due settimane fa non erano poi così evidenti ma hanno visto un'accelerata importante negli ultimi giorni quindi diversificazione sia tra azioni obbligazioni ma anche all'interno del comparto obbligazionario i clienti lo sanno vedono come sono fatti i nostri portafogli sono molto diversificati sia a livello di azionario che a livello di componente obbligazionario ma anche accettazione che questa inflazione potrebbe non essere un fenomeno transitorio perché appunto l'obiettivo di una banca centrale alla fine sì teoricamente da mandato è quello della stabilità dei prezzi in altre parole il principale mandato però è che l'economia giri in due parole quindi non andranno a chiudere i rubinetti della liquidità alzare i tassi di interesse se vedono un rallentamento dell'economia anche se l'inflazione dovesse continuare magari questo picco del 5-6% per l'Europa è davvero un picco e magari si stabilizzerà valori un po' più ragionevoli come un 3-4% ma non è detto che agiranno subito se questo metterà in crisi la ripartenza dell'economia quindi se sei arrivato a questo punto del video ti starei chiedendo bene e a questo punto in che cosa investo ci teniamo questo tema per il prossimo video anche perché c'è un tema legato all'inflazione che molte persone trascurano che un conto è il dato che leggi di inflazione un conto è l'inflazione che effettivamente va ad erodere il tuo capitale e non è la stessa cosa ed è un tema che voglio approfondire in un altro video assieme alle strategie di investimento per questo particolare contesto economico ma lo faremo dopo aver lanciato una di quelle belle iniziative che fanno gli youtuber quindi se questo video raggiunge mille mi piace farò un altro video in cui ti spiegherò e approfondiremo questi temi come investire in contesti inflattivi e come effettivamente numeri alla mano l'inflazione sta mangiando i tuoi risparmi o potrebbe mangiarli di meno in base al tipo di consumo che fai fammi sapere le tue riflessioni nei commenti con questo è tutto ci vediamo in un altro video ciao i migliori contenuti per prendere le migliori decisioni finanziarie al costo di un caffè al giorno scriviti ora su pianofinanziarioplus.it grazie a tutti grazie a tutti